Siamo in una fase nella quale, e ti parlo da persona che ha fatto l'incassi al cinema, l'incasso è una parte della verità. L'altra parte della verità è realizzare opere che lasciano un segno. Questo festival lascia un segno. Non avrà le altisonanze di altri festival che invece sono vacui, innocui, ma che hanno quell'allure del red carpet.